Benvenuti nel nuovo episodio del Genga Giganti insieme a tutta Melagodo Che io? Siamo dicendo tutti Siccome siamo in un botto Allora innanzitutto quanti like Raga spariamo nella cifra di Quanti siamo? Metti Tutta Melagodo riunita è tipo quando cambia il papa Una roba del genere Tutta Melagodo riunita è tipo quando cambia il papa Una cinquantina di like Una cinquantina di like Ma a cento lo facciamo nudi Quanto puoi fare? No 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 e poi lo ne facciamo Tantanamo metti coglioni bravo 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 allora siccome è un jenga enorme non faremo con le sfide delle domande ma andremo a turni quindi uno a testa tira fuori io faccio per primo raga tira fuori il cazzo sai? non è quello il gioco ci siamo ma onestamente è difficile perchè non ci ho mai giocato eh proviamo all'inizio no ma tu lo prendi e lo metti da sopra oh si come si prende cosa vuol dire come lo stai oh bai ragazzi cosa vuol dire come lo stai cosa vuol dire come lo stai allora vado io vado di bello queste e non ho mai giocato il genere non ho mai giocato il genere oh biappo si pazzo sei fuori di meone l'uomo è già uscito da solo oh vabbè ma come faremo per forza di che cosa ti giuro non ho capito una raga non mi è mai capitato immagina a voi ma credo che neanche come fa a rimanere su stessa guarda il massimo è il traduttore è il traduttore è il traduttore no massimo ma lo stai facendo nooo vabbè no ma senza tutta la tonne su un tassello aaa nabiii ma eliminazione si facciamo così si facciamo 35 tunne fino a rimanere 81 dai si tanto si fatti vai gimmy dopo lo devi militare tu hai già dato gimmy no gimmy occhio gimmy è espertissimo guarda come muove il dito guarda il dito guarda il dito va come si muove bene il dito guarda il dito guarda il dito guarda come si muove bene il dito guarda come si muove bene il dito guarda del mann aqua parte per il jungle vai e' pazzito mamma mia signori senti la linguetta dell'ozPara non uscire in grandicie sei ansioso è veramente troppo facile spava già troppo facile 好吧 bravo col Jupiter ma c'e' quel pezzo che è tipo tutto vuoto ma ancora la 20ilim alla partita Stava cosi eh? Stava sorrimmo sicuro Così ovviamente settesima forse Non la mi crolla ragazzi Sii Non la mi crolla ragazzi Sii Gimmi è il momento di farla cadere Ma che fai? È fazzito Ma l'ho toccato... No li sta carezzando con il pollicione Ma li sta carezzando? Sta carezzando con il pollicione Guarda che tecnica Gimmi No vabbè ragazzi Amutolisce tutti Concentrisci Gabo qual è? Gabo 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 di squere 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 non lo so perchè stava cadendo a te non me vale fermi in silenzio regà faccio solo lo spazio tempo basta allusicato no il ninja ti tengo mi estrailo oppelala ma l'hai tirato fuori ma l'hai tirato fuori un secondo oppelala no bravo rimontala adesso bravo capo GANTU DI SQUERE LALALALALALA GANTU DI SQUERE la carità viene fuori a me quindi in effetti l'ha preso io ho detto che va fuori a me quindi va fuori capo dai ma qua lo fa di tutto out sta solo la mia sbappata guarda questa è grappo no no andiamo dopo ma scusa sono avvantaggiato quindi vuol dire che da qui posso ti da fuori da qui in sotto si esatto stanno andando a prendere quello più incastrato di minchia questa è soundboard anche questo eeeh oppelala no il marzone è partito già va no visto come tasta ma è una troia questa ma grazie ma ci avrà 15 kg di legno sopra come fa a muovere l'altro ma non puoi lasciare la metà morto bene morto bene ma hai mancato tu ma come lo picchietto guarda ma se io mettevo due dito a mare ma sei un porco stai stitalinando la torre oh scusate qua non esce porcaccio lo trittitano una troia questa mattina ha un dito così come fate ad rimanere un po' ma infatti in fondo ma sei un po' la mano in fondo senti marco non lo sente però con vale sicurezza è il momento tuo aaaaaaah questa è tutta esperienza sembrava un nocciolo di cittura c'è troppo spazio sia a destra la parte sotto ragazzi eeeh è letale eeeh eeeh guarda ti so da quanto tempo l'aveva visto la mano quattro dita e anche qua è passato accarezza accarezzante guardalo passa a accarezzarlo prima erano morbidi questi guarda che quelli dopo Jimmy vengono eliminati occhio Zanò oppela guarda Marzo è tutta tua sei bastandina hai capito Marzo ci va di testa contro una affanculo ma che cosa stai facendo ma aaaah si è spento il pc no com'è? brava il mito ci mette dentro dici il cazzo lo struscio senza neanche guardare aaaah che spettacolo che spettacolo spero impossibile grazie 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 per me non ho messo io c'hai il cazzo ieri a un certo punto finiscono i due io ho la torre ragazzi ma l'ha già fatto un po' ooooo ma non lo dite a me gli stava cascata pure in testa le rotazioni mamma mia il marzole ha preso le redini au zan aaaah madonna il mio iphone io lo sposterei da lì io lo leverei no avete fatto il fondale sbagliato no il fondale doppio ma siamo delle cifre ma guarda che delicatezza ma è messo vai eduardo sorry se Titti ne elimina un altro impazzisco ragazzi Titti è il ramsi degli youtuber ma hai visto che ho fatto io per due ramo un caffè un canzellino molto goloso saccoso io penso che in questo video o ti vanno con il canale o lo hai di veramente bere infatti uscirà il Natale prossimo ah intronatale questo chi è che lo ha evitato belu cazzo trovato fantastico jesteron però se esco io andiamo a fumare noi no che peccato c'è Titti che sta con un turbante infatti secondo me vince lui è perso doppio vabbè ma lui è ha fatto quattro turni si però questo ha perso ha perso si perde vado a fumare andate a fare in culo però comunque è sbagliato che io devo saltare un turno no sei tu stronzo sei tu stronzo ma lui ha levato uno che ha levato l'altro che è la magia che cazzo sei? è Gesù parte così speditissima subito massimo masseo dai dai devo fumare veloce e farlo ripartire come lo stava registrando? da quanto tempo? da quanto tempo? ancora vivo no no accarezza col pollicione devi fare il ninja Fran il fide del ninja è il momento del ninja come fa ad essere ancora in piede questa cosa? ma è impossibile ma c'è ragazzi nooo ma noi ce l'ho fantastico perchè lui ce la fa che c'è ancora quello safe e poi tu no a meno che non fai la merda e non prendi il quarto ma loro guarda come stanno noi stiamo lì a fare i numeri i numeri che rendono le equazioni e raga non ce l'ho più eh leone è uno però ecco guarda sono finito sono finito però a prendere i da stop secondo me la regola devi prendere i primi 5 da giù eh se sovravvivo sono il god della solopare se non ce l'ho fa abbia spezzato la maledizione dammi la potenza alfazzone non li faccio no alfazzone non ha altro potere no ma quella è facile no ragazzi non è possibile ma perché ha fatto la ticci a mangiare la botta a terra grazie alfazzone come così bocca vai massè divertiti vai divertiti se una cussi hai preso da sopra dovrai andare sopra ma che cazzo ti senti guarda massio che uomo di culto guarda che uomo di culto poi da un calcio lo faccio volare è un ebrotico perché non vuole gente che che vada ad influire il suo lavoro oh cazzo oh cazzo ce l'ho fatto stai disturbando? oh cazzo ma basta ma com'è questa resistenza contro Jimmy? non l'ho capito eh nooo eh no eh no non è col turbante che ho perso adesso mi sembra la stessa cantore che canta da 12 mesi oh no ma è sempre le stesse tecniche la roba è la stessa erosofile ma l'ho fatto ragazzi oh no oh no ma è incredibile ma perché ho messo ste mensole l'ompoloso di coglioni ma è enorme come? come fai ad arrivare fin là che sei qua bianca ma che faccio? beh raga non toccherà mai più a me no? no no come? ti voglio ricordare il video che abbiamo fatto noi appunto appunto ormai la dico come viene però vabbè oh no adesso lo fa forza e casca oh no ma sei molto ma tu sei più non so no 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 ma due centimetri per cascare basta ne avanzano o forse è chirurgica la cosa che ha fatto ma se te ne sei andato? orca oh no che culo bravo bravo ci siamo liberati no è caduto da sotto io ho urlato e è caduto no perchè l'elemento di qua che era la parte più debole due mettono al centro ma piano piano l'ha fatto come cazzo ha fatto? no sta ancora registrando? uh facile questo se soffiavi usciva da sola quindi sei dovuti fare con la rolling che hai fatto il video del libro no no è lei c'è la pibbia, la rolling e poi lui che cerca di prendere il posto della rolling dai da lei ma facile va bene hai già venduti qua quanti ne hai vendute adesso? hai fatto uscire a iene e hai venduto più di 120 mila 120 milioni c'è stronca c'è cinico stavo per inciampare e cadirci di faccia contro a tutta la torre a casa non era nel donda guarda la regina che tira tutto la torre come uno schiaffo si non può cadere adesso non può veramente cadere 0,25 eh vabbè me lo manica tirato indietro ho dato un po' di... nooo stai stava creando stava creando l'ingorgo oh ma sono tutti duri t'ho detto sono tutti duri come... ma infatti come cazzo hai made the glue nooo ma hai fatto tutto quello che ho pagato hai made the glue right here cioè I'm making the glue troppo si io lo davo un po' guarda chieda la mano che cazzo ci devo fare un cazzo sinceramente ma basta suggerire ma sei un consiglio sei il diavolo sei ma sei il diavolo ma come li vede porco dio c'è uno spazio così porco due volava è fermo Dero sta fermo Dero il cuore il chakra è su un camion ma non ho ancora messo il mio già stai tirandone le uniche eh certo bisogna produrre e se faceva come Jimmy cadeva poi mazzi cazzo suono stava toccando non ho capito marzo dico non è giusto giocare ma cos'è non lo so non lo so però quel doppio di calo rivolto un po' pauloso è vero ma no ma cazzo beh non si può né rientrare né riuscire qua oh no fra oh no ah no non l'ha neanche visto ma tu l'ha tolto senti come cazzo ha fatto non l'ha tolto ma marzo e marzo tu sei alman in qualche modo fra ma ahah 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 fantastico super col bait ha aperto lo spazio si è riuscito anche a fare così questo è l'eroe questa cazzo ma Maldredone era veramente easy cioè Maldredone ormai è un maestro ormai viene negli spazi eh Jostron secondo me sei finito Jostron Jostron sei un mondo devo entrare con un dinamite ammazza lui, ammazza te, ammazza lui e poi qualcuno gli sa parlato ma perchè stia parlando di lui? guarda non interverrà ma come cazzo l'ha fatto? e ti dava un gengan frog no si no te lo dico sotto è veramente no è impossibile a meno che non to- a meno che- a meno che- a meno che non tolgo questo nooo al centro sta giocando con l'equilibrio ragazzi no perché io non giocherò più la forza cioè nel senso non toccherà mai più a me perchè se fanno anche il massimo e 3 ci sono quelli più 3 yarder in questi cinque un po' occhio a come lo metti ma io non tolgo è tutto votato no no io non tolgo ma questo è storto è la challenge ma che c'è? ma che c'è? il messio non ci credo che il mio mamma mia il fazzore che giocatore ragazzi il messio corrotello il capitano questa te l'ho anche ruotata un po' mi stai simpatico ti ha dato una mano eh? si ma fioi ma come cazzo se è qua come cazzo si tu devo dire no raga no ma che culo ma perchè trova ma non c'era prima quella quello c'era ma come non ce l'ho messo io? e beh materializza le cose che so mamma mia teo è il momento tuo mamma mia ma sei micidiale questo a metà mi hai lasciato no micidiale micidiale gredone micidiale bravo gredone bravo ma non deve fare uscita nessuno ma stiamo scherzando ma no ma in questo polo questo vorrei fare tutti gli altri o la va o una sigaretta uno che vorrei far notare dall'inquadratore è che tutti sono andati lì a tutti c'è un drumino pronto qui teo l'ho che inizi a fuma oh teo leva la testa io l'ho vista bruttissima la testa di teo se non lo dicevi ero quasi contento di avercela fatta ragazzi allora sto in piedi vai tocca al fazzone non ti perdere un po' il podio ma è tutta storta meglio 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 è più challenging è l'handicap match questo mi devo andare così era impossibile comunque da superare quello stage c'è vai abbiamo dieci secondi per fare la mossa dieci eh vabbè questo è veramente il pusher di tutta la mia come cazzo ti permette vieni a smocchiare qua considera che c'è il cappello e il naso classico questo è che perchè l'hai fatto tu? l'hai fatto tu? eh? eh? dai l'ho tagliato lì 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 bravo esatto oddio oddio c'è sempre torchiamo fermi 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 oh no chi tocca? bene ha perso Deus ha perso Deus perfetto oh si non perdete il ritmo che giocatori la foresta ci ha aiutati ma questo è proprio una roba direttante prendo oh il falzonello ho tutto uscito prima che cazzo vuoi? ma io ho il 25 di mostro non al quadro ti ho vinto? non ho vinto perchè hai toccato il sacro l'uccello? il vincitore tra i tre lo decreterete voi farete voi la top 3 per il resto ragazzi mi la godo vi auguro buon natale buone feste del cazzo buon natale buon natale ragazzi ci vediamo al prossimo video BAMBOIS 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 Grazie a tutti.